Benvenuti al pastificio di Martino. Vi guiderò alla scoperta della nostra pasta, esportata in tutto il mondo. Cosa ci serve per prepararla? Curiosi di scoprire come si fa la pasta fresca. Sì, vedi? La pasta graffiata con le trafile cattura alla perfezione i sughi. Fissiamo la forma della pasta con il calore, che cristallizza la superficie. A ogni formato corrispondono tempi diversi. Potrebbero volerci addirittura 60 ore. Perché così tanto? La voltare chiede tempo. Gli effetti si sentono nel profumo e nel gusto. Brezza marina dal golfo di Napoli e vento dai muti lattari. I nostri antenati asciugavano così la pasta. Il mio compito è finito. Entrate e scoprite tutti i segreti della pasta con la nostra pasta Genius.